E quando fa freddo, lavorare è ancora più difficile. Nel mio caso potrei sfidare, ma vedete che c'è anche un gradino qua. Siamo nella campina di nomadi a Bagnolo in piano. Con un altro coraggio, con magari meno freddo, con condizioni psicofisiche per noi diverse, e saremmo andati magari a Bento. Questo è un campo a nomadi. Questo è un campo a nomadi. E con la presenza di questo gradino, che magari c'era prima, di per sé è significativo. Vedete, quelle sono habitat naturali. Adesso magari esce qualcuno. Io, quando sono talmente abituato, c'è uno con il telefonino in mano. Sono uscite persone. Ecco. Lungi da noi dare una... Essendoci persone all'esterno, ci allontaniamo. Nell'istante in cui capiscono che ci sono intrusi. Vedete già anche questo. Vedete? 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 C'erano due persone. Poi diventa difficile. Poi adesso ci deleghiamo. Ci deleghiamo perché magari sono in seguimento. Insomma, magari si accorgono. No? Ecco. Perché abbiamo fatto questo? Non è un discorso, come sempre, non è un discorso di discriminazione. È un discorso magari molto particolare in cui si mischia da parte nostra coraggio, anche timore e anche rispetto di una comunità che ha le proprie regole. che a me sarebbe piaciuto andarlo a raccontare con loro. Non mi piacerebbe tanto raccontare anche per provare a cambiare i luoghi comuni, ma sarà poi accettato. È diverso dal discorso del circo, molto diverso.